Nel paulano la Guardia di Finanza ha scoperto una evasoria totale che dal 2014 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 1.700.000 euro. Il tutto è emerso in seguito ad un'attività di polizia giudiziaria diretta dal procuratore del capo della Repubblica di Paola, il dottor Pierpaolo Bruni, e dalla sostituto alla dottoressa Teresa Valeria Greco che aveva portato anche all'esecuzione di misure cautelari personali e sequestri nei confronti di diversi soggetti accusati di aver commesso il reato di trasferimento fraudolento di valori. I finanzieri della compagnia di Paola per questo hanno smascherato una società fantasma attiva nel settore dei supermercati. Una volta rilevata la falsa intestazione della società è stata avviata una verifica fiscale sull'attività scoprendo che nel corso degli anni i titolari sia quelli fittizi che quelli effettivi non avevano mai presentato dichiarazioni fiscali né pagato imposte. Si è per tanto proceduto a ricostruire le vendite e gli utili dell'impresa anche attraverso indagini finanziarie e riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, constatando la mancata dichiarazione di ricavi per 1.700.000 euro ed imposte per oltre 120.000 euro.